Devo testare i caricatori, quindi ne ha nascosti un po' che ammuffandoli da robot della manutenzione, tu ignora! Bra- bravo! Yeah! Per me no ma- No vabbè! C'è non ti rianimo, Dio cazzo! C'è, hai visto che è duro? C'è, per me il maiolo è tutto duro sta camminando! C'è un nuovo dillà! C'è un tri 150!